Verona ci sarà il prossimo Family Day in programma a Roma per il 30 di gennaio. Arriva a dirlo i membri del comitato locale Difendiamo i nostri figli della città scaligera che da tempo, dalla manifestazione del giugno 2015, porta avanti un lavoro di promozione e di conoscenza sul territorio delle iniziative nazionali. Certo, abbiamo trovato tantissima sensibilità nella gente. In due fine settimane abbiamo fatto una raccolta firme contro il DDL Cirinà proprio per affermare che l'unica famiglia è quella costituita da mamma e da papà. Abbiamo raccolto più di 22.000 firme, adesso la nuova mobilitazione è quella a Roma il 30 gennaio al Circo Massimo. Nel comunicato, letto in contemporanea ad altre iniziative analoghe di presentazione del Family Day, si legge la volontà del comitato di portare avanti un'opposizione alla ridefinizione del concetto di famiglia, lontana però dal mettere in discussione i diritti individuali di alcuno. Un milione e mezzo di famiglie sono sotto la soglia della povertà e quindi è importante prendersi cura di queste persone piuttosto che fare altro e quindi per questo vogliamo reagire all'ingresso di una legge ingiusta all'interno della nostra legislazione. Vi aspettavate tanto consenso anche a Verona? Abbiamo informato tantissimo, una grande partecipazione, abbiamo lavorato molto, soprattutto abbiamo fatto ragionare le persone. Una manifestazione, un movimento a favore, mai contro? A favore della famiglia, dell'affermare che appunto la famiglia naturale è l'unica famiglia perché altri tipi di famiglie sono lesivi del diritto del bambino a crescere con una mamma e con papà, oltre che lesivi anche della salute della donna. Pensiamo all'utero in affitto, pensiamo a tutto quello che viene con la fecondazione artificiale. Grazie. 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 Grazie.